ben trovati amici del web ultimo video della nostra serie dedicata ai limiti della ricerca in ambito nutrizionale oggi lasciamo il regno degli studi epidemiologici di cui ci siamo occupati la volta scorsa e passiamo a quello degli studi sperimentali cioè dove noi interveniamo sulla popolazione non ci limitiamo più solo ad osservarla e qui troviamo i cosiddetti studi clinici che in ambito nutrizionale vengono spesso anche chiamati studi di intervento a sottolineare il fatto che molto spesso si fanno su soggetti sani fuori dal contesto clinico e si fanno interventi alimentari cioè si modifica la dieta si danno alimenti o nutrienti non farmaci ma il disegno sperimentale è lo stesso io seleziono dei soggetti rappresentativi di una popolazione ovviamente seguendo appropriati criteri e poi faccio un intervento per vedere l'effetto che fa ad esempio prendo 60 soggetti e dico 20 di voi per un mese mangiate due mele tutti i giorni con la buccia altri 20 mangiate due mele tutti i giorni senza la buccia altri 20 non mangiate nessuna mela e poi alla fine vediamo che ne so com'è cambiato il vostro stato antiossidante tutto il resto cerchiamo di tenerlo il più possibile uguale senza prendere supplementi senza fare particolari stravaganze dietetiche eccetera in modo che alla fine se vedo delle differenze tra i tre gruppi so che è stata la mia mela e se in quelli che si mangiavano anche la buccia lo stress ossidativo è più basso di tutti so che mangiare la buccia fa davvero la differenza il vantaggio principale di questo tipo di studi dal punto di vista della qualità dell'informazione scientifica che mi danno è che essendo strutturati in questo modo mi permettono di concludere con ragionevole certezza che esiste un nesso di causalità e non solo un'associazione come negli studi epidemiologici perché qui sono io che decido l'intervento sono io che dico al gallo oggi all'alba non canti e vediamo se il sole sorge lo stesso o no inoltre sono io che controllo il disegno sperimentale cerco di farlo in modo da escludere ogni possibile fattore confondente cioè qua posso dire prendo un gruppo di gente che fanno tutti più o meno la stessa attività fisica fumano tutti le stesse sigarette o non fuma nessuno hanno una dieta abbastanza omogenea hanno tutti un'occupazione simile un reddito simile qui posso farlo perché li scelgo io i soggetti del mio studio poi li divido io a caso e dico a metà do un supplemento multivitaminico e a metà non lo do a quel punto se vedo una differenza statisticamente significativa sono molto più sicuro che sia stato proprio il mio supplemento non avrò mai la certezza assoluta ovviamente ma ce l'ho molto più forte perché qui intervengo io capite cioè per tornare un esempio epidemiologico che avevamo fatto la volta scorsa qui è come se andassi io in spiaggia a prendere mille bagnanti e dicessi allora 500 di voi scelti a caso oggi non mangiano il gelato e gli altri 500 mangiano il gelato poi vediamo quanti nei due gruppi vengono punti da una medusa molto probabilmente vedrò che la differenza tra i due gruppi non sarà significativa in questo modo posso con più sicurezza escludere che ci sia un rapporto di causa effetto tra mangiare il gelato e attrarre le meduse anche se i due eventi sono epidemiologicamente associati ma non tutto è oro quello che luccica anche gli studi clinici vengono con tutta una serie di problemi e limitazioni importanti innanzitutto non posso studiare qualunque cosa per ovvi problemi etici posso fare interventi potenzialmente protettivi ma non potenzialmente dannosi non posso dire voi mangiate malissimo per due mesi oppure voi prendete questo farmaco potenzialmente salvavita e voi no oppure voi prendete questo additivo in dosi massicce perché voglio vedere se è tossico per queste cose devo limitarmi a studi epidemiologici o sul modello animale due altro problema sono i limiti tecnici in particolare per quanto riguarda la scelta dei soggetti la standardizzazione del contesto sperimentale e la loro compliance cioè che seguano le istruzioni che io gli do il principale problema di qualunque disegno sperimentale in questo tipo di studi è che io devo cercare di mantenere tutto il resto a parte della variabile in studio il più uniforme possibile ma in un ospedale con dei pazienti a cui do un farmaco è più facile perché sono lì li controllo abbastanza so cosa mangiano eccetera invece con dei volontari normali che fanno la loro vita normale e su cui studio un alimento o una dieta è assai più difficile innanzitutto devo cercare di selezionare un gruppo il più omogeneo possibile in primis per la dieta cioè per ciascun potenziale volontario devo guardare com'è la sua dieta normale e assicurarmi che sia ragionevolmente omogenea a quella degli altri che non sia che uno è vegano stretto l'altro mangia solo da McDonald's il terzo mangia solo papaya perché sennò ciao e poi che abbiano tutti uno stile di vita ragionevolmente omogeneo perfumo alcol esercizio fisico e tutto quello che può confondere i miei risultati poi una volta che ho selezionato i miei soggetti devo nei limiti del possibile dare loro delle indicazioni sulla dieta da seguire e i comportamenti da tenere durante lo studio sempre per mantenere una certa uniformità ed evitare che uno si metta improvvisamente a cambiare dieta o prendere un supplemento o fare una terapia farmacologica senza dirmelo perché sennò è ovvio che va a influire sui miei risultati e infine devo assicurarmi che capiscano tutti bene le istruzioni e sperare che le seguano perché non posso stare addosso 24 ore su 24 a tutti i miei volontari devo fidarmi che collaborino e facciano quello che gli dico di fare e possibilmente fare anche qualche controllo per verificarlo 3 altro problema il costo gli studi clinici sono molto costosi soprattutto se fatti su grandi gruppi di soggetti e per tempi lunghi anche uno studio che dura un paio di settimane su una ventina di soggetti che il minimo sindacale per sperare di ottenere qualche dato utilizzabile ha un costo nell'ordine delle decine di migliaia di euro e via via che aumenta la durata dell'intervento il numero dei soggetti arruolati i costi crescono in modo massiccio 4 altro problema ancora che è conseguenza diretta del costo e dei limiti etici visto che il più delle volte posso solo studiare un numero limitato di soggetti per un tempo relativamente breve senza poterli sottoporre a nulla di troppo aggressivo non posso studiare direttamente l'esito finale dei miei trattamenti tipo a quanti viene l'infarto a quanti viene il tumore ma devo trovare dei biomarker intermedi che cambiano in fretta che siano facilmente misurabili e che siano ragionevolmente correlati al rischio delle malattie questo ahimè non è facile pone grossi problemi nell'interpretazione delle conclusioni ma di questo abbiamo già diffusamente parlato nel quinto video di questa serie quindi non dobbiamo ripeterci oggi andiamo avanti altro problema è quello dell'effetto mascherato dovuto alla variabilità esterna che può essere maggiore dell'effetto della mia variabile in studio mi spiego subito la iattura degli studi di intervento nutrizionale è il rischio di non vedere un effetto non perché non c'è ma perché è mascherato vale a dire il mio effetto è al di sotto della rilevabilità non necessariamente perché è piccolo o insignificante ma perché è mascherato da altri fattori che lo influenzano di più i volontari umani non sono come gli animali che sono tutti geneticamente identici li posso tenere in una gabbia controllo esattamente cosa mangiano cosa fanno eccetera qui ci sono moltissimi altri fattori che variano da soggetto a soggetto e che possono influenzare il mio risultato può essere che l'effetto del mio trattamento ci sia ma io non lo vedo perché quello degli altri fattori è più grande magari il mio cavolfiore ha protetto i miei soggetti dallo stress ossidativo ma quelli che prendevano il cavolfiore sfiga vuole hanno fumato due sigarette in più dei controlli e questo è stato sufficiente a mascherarne completamente l'effetto potevi dargli più cavolfiori dirà qualcuno o per più tempo in modo che l'effetto fosse più grande ma questo si scontra con l'esigenza di fare un intervento che sia realistico in modo che i risultati siano estrapolabili per la popolazione generale perché se no vabbè scopro che due chili di cavolfiori al giorno prevengono il tumore tanto piacere e allora chi se li mangerà mai è un'informazione completamente inutile per cui quando decido quantità e frequenza di introduzione dell'alimento deve essere una dose compatibile con una dieta normale una porzione al giorno non due chili e idem per il tempo di esposizione al consumo dell'alimento quanto faccio durare lo studio se troppo poco rischio di non fare in tempo a vedere gli effetti ma troppo lungo si rompe le balle lui di mangiare i miei cavolfiori e mi manda al diavolo oltre a fornirmi un dato poco utilizzabile qualcun altro dirà potevi controllare di più per i possibili fattori confondenti cioè dire vabbè anziché lasciare liberi i tuoi soggetti potevi tenerli tutti in un albergo per un mese fagli mangiare esattamente le stesse identiche cose a parte i cavolfiori tenerli sotto controllo meglio verificare che non facessero stravizi che non prendessero farmaci o supplementi far fumare a tutti lo stesso numero di sigarette eccetera al di là della fattibilità e del costo oggettivamente una cosa così è impensabile avrebbe costi esorbitanti che fanno quelli lì tutto il giorno hanno una famiglia un lavoro è assurdo ma poi il punto degli studi di intervento non tradizionale è che ci controllare i miei volontari come se fossero animali in gabbia si scontra con questa premessa a me serve vedere che il mio cavolfiore faccia qualcosa nella popolazione normale che fa una vita normale se no a che mi serve un modo usato molto spesso per minimizzare la variabilità e vedere meglio un effetto è invece di reclutare individui sani in generale usare un target più specifico ad esempio posso scegliere soggetti con particolari fattori di rischio che ne so posso prendere solo dei fumatori per vedere se c'è un effetto sul danno ossidativo o solo gente che ha già colesterolo alto per vedere se la mia dieta abbassa la colesterolemia anche qui però tanto più vado nello specifico tanto meno i miei risultati sono estrapolabili per la popolazione generale quindi non devo esagerare e poi rischio di avere effetti più o meno evidenti se prendo i soggetti nel modo sbagliato è chiaro che se prendo uno che fa sport è vegetariano non fuma fa yoga e cuoce tutto al vapore senza usare i grassi e poi vedo di quanto il succo di pomodoro migliora la sua resistenza allo stress ossidativo non trovo grandi risultati perché quello è già straprotetto di suo e così esito di sottostimare i benefici del mio pomodoro viceversa se prendo quello che è una dieta spaventosa e guardo l'effetto dell'olio di semi anche il più scadente troverò che è miracoloso perché quello è una dieta così pessima che qualunque cosa l'avrebbe migliorata quindi c'è sempre da trovare un equilibrio tra le esigenze del metodo scientifico e quello di una situazione di vita reale purtroppo le due cose tirano in direzioni opposte come due squadri che giocano al tiro la fune più li controllo bene meno i miei studi rassomigliano alla realtà questo è l'eterno dramma del ricercatore che fa questo tipo di studi quanto più uno studio è scientificamente impeccabile tanto meno è realistico e quindi tanto meno mi dà informazioni concretamente estrapolabili per la popolazione generale in un contesto di vita reale e viceversa e quindi bisogna stare un po in mezzo dire vabbè controllare tutto quello che posso ma nei limiti della vita reale sennò verrà anche fuori un elegantissimo lavoro da pubblicare su una bella rivista scientifica ma nella pratica non servirà mai a nessuno e per finire abbiamo il problema del placebo il re degli studi clinici quello col disegno sperimentale più solido è il double blind placebo controlled randomized clinical trial cioè uno studio clinico randomizzato controllato con placebo e col doppio cieco che vuol dire che una volta che io ho i miei soggetti li assegno in modo casuale a due gruppi diversi uno che segue il trattamento l'altro che fa da controllo cioè non segue il trattamento ma per il resto vive il più possibile nelle stesse condizioni sperimentali in modo che la differenza tra i due gruppi sia solo se seguono o no il mio trattamento i soggetti di controllo tuttavia ricevono un placebo cioè ricevono qualcosa di simile al trattamento e gli viene detto che stanno ricevendo il trattamento anche loro in modo che anche loro subiscano lo stesso effetto placebo l'effetto placebo non è affatto una questione secondaria nel mondo della scienza è un fenomeno osservato in migliaia e migliaia di salse e tutte le sperimentazioni cliniche ne tengono conto abitualmente perché la mente è effettivamente in grado di influenzare il corpo attraverso il potere dell'autosuggestione e non in modo debole o marginale ma in modo formidabile per cui se io voglio testare l'efficacia di un nuovo farmaco e mi limito a prendere un gruppo di persone e dargli il farmaco e vedere come funziona i miei dati verrebbero immediatamente contestati perché molte di quelle persone sarebbero suggestionate dal contesto sperimentale a tal punto da produrre risultati inattendibili molte di loro penserebbero inconsciamente beh se è un farmaco nuovo sarà più efficace oppure beh sono entrato in uno studio condotto da tutti questi ricercatori esperti sono in buone mani questi sì che la sanno lunga e sanno cosa fare non come quell'inutile del mio medico di base e così il nuovo farmaco funzionerà meglio solo perché molti pazienti sono convinti che debba farlo o che ci si stia prendendo cura meglio di loro per cui quantomeno devo dividere i miei soggetti in due gruppi a metà dare il farmaco e l'altra metà una normalissima caramella di uguale aspetto e sapore in modo che tutti siano convinti di assumere il farmaco ma solo metà lo stanno assumendo davvero invariabilmente anche qualcuno dei soggetti che ha preso la caramella avrà dei miglioramenti solo per effetto dell'autosuggestione e per misurare la reale efficacia del farmaco io dovrò quindi confrontare i risultati dei due gruppi e vedere se l'effetto differenziale del mio farmaco è effettivamente significativo ma il potere della suggestione è così forte che questa precauzione non basta infatti nello scenario che abbiamo appena descritto anche se i miei soggetti non sanno se stanno assumendo il farmaco o la caramella io che glieli sto dando lo so e se io sono convinto dell'efficacia del mio farmaco non solo rischio di interpretare in modo distorto gli esi della sperimentazione perché quando uno si aspetta di trovare un certo risultato è portato inconsciamente a non essere imparziale magari eliminare dati che invece erano leciti commettere errori vedere cose che non ci sono ma che ci si aspetta eccetera ma soprattutto ci sono decine di modi in cui anche inconsciamente con linguaggio del corpo posso trasmettere dei segnali di rassicurazione ai soggetti che stanno assumendo il farmaco e dei segnali di incertezza ai soggetti che stanno assumendo la caramella e questi segnali ricevuti sempre inconsciamente dai soggetti vanno a influenzare l'esito del test vi sembra esagerato o macchinoso eppure negli studi clinici e prassi tenerne conto adottando insieme ai campioni placebo anche la procedura del doppio cieco vale a dire che nei soggetti nei ricercatori che interagiscono direttamente con loro e analizzano i campioni sanno chi sta ricevendo il trattamento e chi il placebo è sufficiente usare dei codici assegnati da un altro ricercatore non direttamente coinvolto nella sperimentazione che li tiene nascosti e solo alla fine di tutto l'esperimento si scopriranno le carte per trarre le conclusioni così ogni suggestione è impossibile ok bene questo è il gold standard degli studi clinici placebo doppio cieco ma non a caso il nostro esempio lo abbiamo fatto con un farmaco ora con una pastiglia e con pazienti in un ospedale è facile ma se il mio studio è su chiavolfiori e su soggetti sani che fanno una vita normale voi capite facilmente che è molto più difficile placebo e doppio cieco quasi mai li posso fare con singoli nutrienti e supplementi posso farlo con succhi frullati creme ancora ancora ma diventa comunque molto complicata la formulazione del placebo con gli alimenti o intere diete ciao come faccio a convincere qualcuno che si sta mangiando un cavolfiore quando in realtà no cosa gli do un cavolfiore finto una patata travestita da cavolfiore non si può quindi in genere non si può fare il placebo e tantomeno il doppio cieco si fa solo il controllo cioè a un gruppo due cavolfiori e un altro semplicemente non li do che è comunque una cosa utilissima in primo luogo per controllare tutti gli altri possibili fattori che ne so magari c'è un cambio del clima che per qualche strana ragione fa abbassare la pressione del sangue però in questo caso succede a tutti anche a quelli del controllo se invece la pressione scende solo a quelli del cavolfiore e non a quelli del controllo sono autorizzato a dire che è proprio l'effetto del mio cavolfiore che ha abbassato la pressione non solo ma quasi sempre durante lo studio i soggetti coinvolti vuoi perché si sentono osservati vuoi perché si sentono incentivati dal contesto dello studio a migliorare il loro stile di vita tendono ad aggiustare un pochino la loro dieta o i loro comportamenti in senso salutistico e quindi quasi sempre succede questo l'ho osservato anch'io direttamente ogni volta che ho lavorato con volontari umani che anche i controlli un pochino migliorano pur sapendo di essere i controlli e quindi non per l'effetto placebo ma comunque miglioravano ed ecco che il gruppo di controllo mi serve comunque per vedere se c'è un miglioramento differenziale che è quello che posso imputare effettivamente al mio trattamento in altre parole se alla fine dello studio i controlli sono migliorati di 2 e quelli del cavolfiore di 6 il miglioramento che attribuisco al mio cavolfiore non è 6 ma 6 meno 2 cioè 4 ma quel 4 è davvero tutto merito del cavolfiore purtroppo non lo posso sapere con sicurezza perché non ho potuto fare il controllo ideale cioè placebo e doppio cieco perché se fosse esistito un ipotetico cavolfiore placebo cioè qualcosa che sembra un cavolfiore a tutti gli effetti ma in realtà è finto a quelli del gruppo di controllo non dicevo voi siete i controlli ma dicevo anche a voi do il cavolfiore e a quel punto magari sarebbero migliorati di 4 anziché di 2 proprio a causa dell'effetto placebo perché anche loro sarebbero stati convinti di ricevere i presunti benefici del cavolfiore no ed ecco che allora saprei che il vero effetto del mio cavolfiore era solamente di 6 meno 4 2 ma visto che il cavolfiore finto non esiste questa cosa non si può sapere ed è una limitazione di tutti gli studi clinici fatti sugli alimenti o sulle diete e con questo signori siamo arrivati alla fine della nostra lunga panoramica sui limiti della ricerca in ambito nutrizionale chi ha avuto la pazienza e la costanza di seguirmi fin qui spero che adesso abbia qualche strumento in più per interpretare con più spirito critico e meno sensazionalismo le informazioni che riceviamo dai vari siti giornali programmi televisivi eccetera in materia di alimenti e nutrizione è facile buttare lì dei dati che sembrano ineccepibili è facile farsi suggestionare da idee magari in controtendenza che sembrano proporre la chiave per risolvere tutti i nostri problemi è facile autoconvincersi di cose che in realtà non sono vere a volte semplicemente metter lì i risultati di uno studio che fanno comodo a sostegno di un'argomentazione non fa che peggiorare le cose perché dà un'aura di credibilità scientifica a quelle che sono in realtà argomentazioni distorte è quello che tende sempre a fare chi segue il famoso metodo della scienza al rovescio cioè completamente fedele alle sue idee preconcette che ne so alla dieta del gruppo sanguigno o al fatto che si debbano escludere i cereali perché fanno male o che l'olio di cocco sia miracoloso e non appena compare uno studio che fuori contesto sembra supportare le sue idee lo mette davanti e dice ecco finalmente c'è la prova scientifica inconfutabile di quello che ho sempre detto io come la mettiamo adesso per cui sta a noi essere più intelligenti e più obiettivi dei fanatici di certe idee strane e saper valutare con più imparzialità le presunte prove scientifiche che questi ci portano sta a noi saper mettere nella giusta prospettiva i dati che ci vengono presentati intuirne i limiti metterli nella giusta prospettiva e quindi dare loro il giusto peso il giusto valore senza precipitarci a trarre conclusioni affrettate e magari distorte o fuorvianti usando dati fuori contesto fuori prospettiva prima di lasciarci vi ricordo l'indirizzo email di questa rubrica che è veryfood.spaziosfera.com e poi come sempre la raccomandazione è la seguente vita quieta mente lieta e moderata dieta tutto chiaro bene qui a 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 Grazie a tutti.